I fuochi d'artificio non chiuderanno la 39esima edizione della Festa del Duca. Il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, ha firmato un'ordinanza con la quale annulla lo spettacolo pirotecnico che era in programma per questa sera e obbliga gli esercizi e le attività commerciali a chiudere entro la mezzanotte e mezza. L'obiettivo, si legge in una nota, è quello di evitare il rischio di assembramenti. Il comune ricorda che nel centro storico e nell'area della festa è obbligatorio l'utilizzo della mascherina dove non è possibile rispettare la distanza di almeno un metro tra le persone. Pena una sanzione da 400 a 3.000 euro. A Fano, invece, il sindaco Massimo Seri lancia un appello ai cittadini. Ferragosto è la giornata più importante dell'estate e quindi voglio augurare a tutti un buon ferragosto che si possa vivere nel migliore modo possibile, facendo le cose andando al mare o magari passarlo con gli amici, con i familiari, insomma, nel modo che uno preferisce. È vero, è un ferragosto diverso rispetto a quello degli altri anni. Non ci siamo mai immaginati di trovarci in una situazione come questa. Però una raccomandazione la faccio. Più che una raccomandazione è un richiamo forte. Dobbiamo essere responsabili perché la differenza vera la facciamo con i nostri comportamenti. Ho emesso un'ordinanza da qui a fine agosto che richiede tre comportamenti elementari ma fondamentali. L'uso delle mascherine quando ci sono assembramenti, pulirsi le mani e tenere le distanze di sicurezza. Questa è la cosa più importante, specialmente nelle zone della Movida, nel centro storico. In questo momento la situazione è sotto controllo, però casi positivi ci sono. Non possiamo far finta che non esistano. È un'altra raccomandazione forte, che non è solo forte, è un richiamo anche questo. E chi non lo rispetta poi se ne assumerà anche le responsabilità. Perché è un comportamento che lede gli altri. E sono quelli di ritorno dalle vacanze, da alcune zone in particolare, dove è previsto di fare il tampone. Quindi mi raccomando, quando si rientra, si faccia il tampone. Perché in questa fase è uno degli elementi che portano i casi nel nostro territorio. Quindi mi raccomando, perché qui oltre ad esserci una responsabilità etica e rispettosa negli altri, ci sono anche altre responsabilità. Quindi ancora un buon Ferragosto a tutti, rispettiamo le ordinanze emesse e teniamo comportamenti responsabili.